Reduce da un doppio risultato positivo contro formazioni di bassa classifica, l'Albaverde scende in campo sabato pomeriggio al Palacanizzaro per affrontare la Gioiosa, che all'andata costrinse le Nissene al primo stop stagionale. Le pallavoliste Nissene guidate dal duo Scollo-Gotte cercheranno il Tris per non perdere terreno dalle due battistrada Zafferane e Pallavolo-Crotone, che avranno i loro impegni casalinghi rispettivamente contro Volley Region e Brico City. Sostenuta dal proprio pubblico, si potrà assistere ad una gara ricca di spugni tecnici che le ragazze devono assolutamente vincere. Appuntamento dunque al Palacanizzaro, sabato 25 febbraio, con inizio alle ore 18. Volley, Serie B2, Girone M, diciassettesima giornata. Stefanese Fidelis Torretta, Albaverde Gioiosa, Cuscatania Planet, Funivia Etna Ardenz Comiso, Pallavolo-Crotone Brico City, Procoriericina Saracena, Zafferana Volley Region.